Mi ha ricordato il circo perché la musica era per far ridere e scherzare. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tutto, quindi non saprei proprio dire che ora è stato il mio pezzo. Mi è piaciuto il pezzo di Arvo Pert perché è come se con la musica emanasse felicità e quindi subito mi è piaciuto. Il mio strumento preferito è stato il pianoforte per come suonava e per la velocità di come suonava. O il violino o il piano. Sono due suoni bellissimi, è bellissimo il modo, cioè è bellissimo vedere come li suonano.